E a proposito di consultazione vediamo l'esito del sondaggio che abbiamo fatto grazie a SVG col campione di italiani dell'opinione pubblica e su un tema sensibilissimo e il risultato di quelli che faranno discutere. Allora vediamo insieme sull'aumento delle spese militari. Attenzione non guardate soltanto la colonina, ascoltate la domanda che è stata fatta. Lei è in accordo o in disaccordo con questa affermazione? Non è giusto che l'Italia aumenti le spese militari al 2% del PIL. Ci sono altre vie per difendere gli stati e le popolazioni. Quindi si è in accordo col fatto che non bisogna aumentare le spese militari fino al 2% del PIL. È d'accordo il 54% e come vedete è la maggioranza netta di elettori della Lega, di elettori del PD, di elettori dei 5 Stelle, meno di Fratelli d'Italia che invece sono in disaccordo rispetto a questa affermazione al 55%. Ma la realtà è che il 54% del campione dice sono d'accordo sul fatto che non sia giusto aumentare le spese militari. Con questo si deve misurare la politica, con quindi un robusto scetticismo per non dire altro rispetto all'ipotesi di aumentare le spese militari. Ma andiamo a un'altra domanda che abbiamo posto, che anch'essa fa evidentemente vedere qualcosa. La tendenza degli italiani a auspicare una maggiore integrazione o una maggiore sovranità degli stati membri. Vedete che c'è una tendenza maggiore all'integrazione che cresce a seconda dei tempi dal inizio del 2021 fino a oggi. Evidentemente c'entra la situazione internazionale ma c'entra anche e molto la lotta alla pandemia e con il PNRR, il Recovery Fund, il Next Generation EU e l'idea di Europa che si è concretizzata di fronte ad avversità molto forti. Mentre la tendenza al sovranismo resta molto alta, 54%, ma perde 10 punti, come vedete nel volgere, di un anno. E in tutto questo, le forze politiche, se si votasse oggi, vediamo insieme. Forse. Ecco qui. Fratelli d'Italia, 21,6-02. Partito Democratico, 21,1-05. Lega, 16-04. Movimento 5 Stelle, 13,4-05. C'è forse una diretta correlazione con la posizione riguardo alle armi. Forza Italia, 7,9 più 0,1. Azione più Europa, 5,4 più 0,2. E poi la banda del 2%, come diciamo. MDP articolo 1, l'EU, 2,6 più 0,2. Sinistra italiana, 2,5 più 0,3. Verdi, 2,5 più 0,2. Italia Viva, 2,4 più 0,2. Italexit, 1,8 meno 0,2. Questi gli orientamenti. Apportamenti.